La gara femminile Ci siamo, partiamo dalla finale terzo quarto al femminile Anachter Hoven, on the left, a sinistra Mina Markovic, on the right, a destra Final for the tour, please La finale per il terzo posto That's the duel Partite Mina Markovic, Anachter Hoven Andiamo a vedere chi si prenderà il terzo gradino di questo Rockmaster Duel 2015 Leggero vantaggio della Verhoeven Olè, tiene Sì Anna Non sbaglia nemmeno la Markovic Un po' più lenta adesso nella progressione, sta prendendo prese In Fugala Giovanni Belga, Anach Verhoeven 3, 3, 4, 6 holes per la bandage per Anach Verhoeven Ce n'è ancora per andare in alto Sì Anna Now on the moon Now on the moon, the rising moon for Anach And the next holes for her Fatima Markovic And the main goal of the world Olè, viene, viene Segue la Markovic, ma Bisogna cambiare marcia per andare a riprendere la neo campionessa del mondo Anak Verhoeven pronta ad affrontare la grande onda del 2 Anak Sì, sì, sì Sì, sì, sì Sì, sì, sì Sì, sì, sì Sì, sì, va bene, anche così Adesso deve solo andare a schiacciare il tasto Anak Verhoeven 1, 57, 57 Con anche qualche bel problema di dialogo con la sua corda Ma tutto bene C'è Mina Markovic 2, 13, 19 Mina, Mina Markovic Bello, bello, bello Anak Verhoeven Brava, bravissima Anak Strepitosa L'Andrea Nella campionessa del mondo Dopo 9 giorni di gara Di nuovo Ancora oggi Anak Verhoeven Anak Verhoeven Anak Verhoeven L'Andrea